C'è ma che cazzo sono quegli fps in alto? 500... 10, 14, 15, 16 fps! Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Guardate un po', guardate quanti fps, sto anche camminando, eh! Allora, questo è un piccolo test che sto facendo di Minecraft, però con la virtualizzazione verticale disattivata, cos'è? È il V-Sync, quello che ti permette di vedere il gioco in meglio, quindi io adesso sto testando il gioco, senza modo, senza shaders, quindi tra un paio di secondi attiverò il V-Sync per vedere a quanti fps andrà. Nel frattempo picchio questa pecora perché mi è mancato a picchiare gli animali in questo gioco. Che bello! Comunque ragazzi, siamo nella versione penultima, mi pare, la 1.16.3 E la 1.17 uscirà tra... non lo so quando, mi devo informare. Comunque, per me questa è la... non so, penultima versione, quindi 1.16.3 Sto aspettando la 1.17. Comunque, una bella passeggiata, non fa male a nessuno. Mi avvicino un po' alla lava per vedere a quanti fps ho. Ah, ok. 576, 575. La GPU è arrivata a 62 gradi centigradi. La mia scheda video sta... Sì, sta cambiando colore. Sì, vedo che si sta surriscaldando anche. 63 gradi centigradi. La CPU è arrivata a 66. Oh, oh, calmiamoci, per favore. Metto un cubo qua. Sì. Non vorrei disturbare la lava. Allora, sì, sì, lo so che la lava... Brucia anche... cioè, brucia anche questo cubo. Porca... Madonna, 1.000! Caspita! Che cammino così. In cielo, invece... In cielo, 800, 630. In alto, cielo, in basso, 1.000, ok. Ok, ragazzi, il gioco mi va... Una favola, con la mia 1.660 Super. E un processore Ryzen 5 3.6. Ok, ora proviamo con il V-Sync attivo. Sì, tutto sofisticato, tutto FPS limitato, visare oscillante, particelle tutte. Livello di MIP, sì, ombre dell'identità, sì, tutto. Cioè, voglio tutto io. Fatto. Ok, ragazzi, siamo a 60 FPS. Ok. Non vedo niente. Ok, proviamo un attimo a vedere una cosa. V-Sync attivo, 1080p, 60 FPS. Ora, disattiviamo il V-Sync. Non vedo niente. Che strano. Vabbè, la CPU è arrivata a 71 gradi con il V-Sync attivo. 75, 74, spero che non arrivi a 80, 81, perché la CPU può anche sopportare fino a 90, 100 gradi. Ce la può fare. La CPU è la CPU, quindi resiste. Eh, resiste. Che bello. Molto bello. Oh. Oh, oh, oh. Stammi lontano. Oh. Che bello. Oh, boom. Mi ha colpito. Con la faccia, no, con il pugiglione, con la faccia. Mucca di qua, mucca di là, un'altra mucca di qua. Ok, proviamo adesso nelle caverne. Sì, proviamo nelle caverne. Vediamo. Non vedo... Sì, gioco a me, andrà... Per forza è così. E andrà per sempre. Ok, ragazzi, comunque io vorrei mettermi assolutamente la shaders, perché non mi piace vedere Minecraft in questo modo. No, a me non piace proprio vederlo in questo modo. No. Ah. No. Nuove ricette. Troccata. Ok. Bene. Sto camminando. Ok, ragazzi. La prossima settimana caricherò un video di Minecraft. Minecraft. Sì, Minecraft. Sì, ricaricherò un video con Minecraft, però con la shaders. Perché... Oh! Che succede qua? Non sono stato io. Io sto solo testando. Mamma mia, hanno bruciato un albero in te. Con le pecore. Ok. Comunque... Non voglio fare quella figura di merda con la pecora, perché... Vabbè, senza che ve lo spiego. Andate a vedere il mio precedente video. Vabbè. Non ho esattato da sopra. Vabbè. 750.000 MHz. 4.000. Sì. Ok. Ok, ragazzi. Sì? Sì? Siamo lì. 1.200, 1.100, 1.200. Ora... Puntiamo verso l'alto. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.500. Test fatto con la 1.600 Super e i Ryzer 5 del 1.200 con 16 GB di RAM. In gioco va una favola. Quindi grazie tante per questa visione. iscriviti al canale, lascia like e resta anche attivo ciao